Partiamo per un viaggio nella storia e nell'arte, visitando il mondo e ammirandone gli edifici, i ponti e i monumenti più iconici. Dalle vestigia delle antiche cività alle strutture moderne, frutto delle tecnologie più avanzate. Sarà un viaggio unico, condotto con il linguaggio e lo stile che contraddistingue artesplorando, semplicità, chiarezza e sintesi. Iscrivetevi al canale e seguite la playlist dedicata per non perdervi nemmeno una puntata.